per la triadella bellezza qui a beautique abbiamo messo a punto tre trattamenti viso adatti a qualsiasi situazione a qualsiasi tipo di esigenza la prima che vi presentiamo è un trattamento al quarzo rosa e argilla rosa un trattamento che ben si sposa ad esempio nel post intervento chirurgico di lifting oppure per chi desidera avere un effetto lifting naturale come si svolge il trattamento innanzitutto vengono utilizzate delle sfere al salerose malayano allo scopo di distendere perché il nostro primo obiettivo nei centri nei saloni di bellezza è quello di creare un momento di relax indispensabile allo stress della vita quotidiana dopo aver perfettamente rilassato quindi nella nostra cliente procediamo con l'utilizzo di alcuni tool per questo tipo di trattamento che è predefinito soprattutto come dicevamo per chi ha effettuato degli interventi di lifting facciale quindi si trova comunque dei gonfiori del sistema linfatico compromesso utilizziamo il quarzo rosa e dei roller al quarzo rosa il quarzo rosa è la pietra nella cristalloterapia indetta al cuore e tende a riequilibrare quindi quel chakra ma soprattutto con il suo effetto freddo mossa sul viso in direzione centrifuga riesce a sgonfiare a lavorare sul sistema linfatico utilizzeremo quindi sia un roller che sono dei rollini da utilizzare per sollevare la muscolatura e andare ad eliminare le tossine attraverso il sistema linfatico oppure gli champignon ovvero delle pietre che incastrate nelle dita riescono a portare molto sollievo e a migliorare le performance del massaggio la conclusione del nostro massaggio sarà l'applicazione di una maschera questa maschera è appunto all'argilla rosa tra tutte quella più delicata quindi andrà a reidratare la superficie la cute a eliminare quelle che possono essere gli aumenti di sebo e a donare un effetto levigato la crema finale è d'obbligo per rendere perfetta la nostra pelle del viso alla fine del trattamento della durata di 45 50 minuti il viso apparirà quindi sostanzialmente sgonfio per chi soffre di borse appariranno notevolmente migliorate e soprattutto si tenderà ad avere un notevole sollievo per un trattamento chirurgico appena eseguito